Un brano del volume 14, Gesù ci racconta le meraviglie, non faceva nulla di straordinario, però faceva tutto. La mia cara mamma, dice Gesù, non faceva nulla di straordinario nella sua vita esterna, non faceva nulla di straordinario nella sua vita esterna, anzi fece meno apparentemente di qualsiasi altro. Anzi ha detto sì, era una buona mamma, una santa panciulla però, purtroppo per virgolette tutta la gente attorno certamente non vedeva, non vedeva altro che una buona e una santa mamma. Lei si abbassava alle azioni più ordinarie della vita, filava, cuciva, scopava, accendeva il fuoco. Chi mai avrebbe pensato che lei era la madre di un Dio? Le sue azioni esterne nulla abitavano di ciò. E quando mi portò nel suo seno, contenendo in lei il verbo eterno, ogni suo moto, ogni azione umana, discuoteva adorazione da tutto il creato, che era nell'ordine di Dio, della divina volontà, quindi vedeva la grandezza che c'era in Maria, la loro sovrana, la loro regina. Da lei usciva la vita e la conservazione di tutte le creature. Il sole prendeva da lei ed aspettava la conservazione della sua luce e del suo calore. La terra, lo svolgimento della vita delle piante. Aspettava da lei, prendeva da lei. Tutto si aggirava intorno a lei. Cieli e terra stavano ai suoi cenni. Eppure, chi vedeva nulla? A Nazareth, nessuno. Tutta la sua grandezza, potenza e santità, i mari immensi di beni che da lei uscivano dal suo interno, ogni suo palpito, respiro, pensiero, parola, erano uno sbocco del suo creatore. Tra lei e Dio erano continue correnti che ella riceveva e dava. Nulla usciva fuori da lei che non ferisse il suo creatore, ed in cui non restasse ferita da lui. Queste correnti la ingrandivano, la innalzavano, la facevano superare tutto, ma nessuno vedeva nulla. Solo io, suo Dio e figlio, ero a giorno di tutto. Tra me e la mamma mia correva tale corrente che il suo palpito scorreva nel mio, e il mio scorreva nel suo. Sicché lei viveva del mio palpito eterno e Dio del suo palpito materno. Onde le nostre vite erano scambiate insieme. Ed era proprio questo che innanzi a me la faceva distinguere che era la mia mamma. Le azioni esterne non mi appagano, né mi piacciono, se non partono da un interno di cui io ne formo la vita. Io sono solito di coprire, con le cose più ordinarie, le mie opere più grandi, affinché nessuno me le ha diti, e Dio resto più libero di operare. E quando ho compiuto, faccio delle sorprese e le manifesto a tutti, facendo tutti stupire. La mia mamma, dice Gesù, non entra nella parte secondaria del mio amore, del mio volere, ma forma un solo anello, come con la grandezza che li vedevo in lei. E poi te la distinguevo da tutte le altre. Faccio la parte di quest'unico anello che lui tra Dio e l'umanità, ricongiunge l'umanità a Dio. Il primo sì, nel mio Fiat, l'ho chiesto alla mia cara mamma. Sì, nel Fiat, nel Fiat l'ho chiesto alla mia cara mamma, il primo sì. E ho potenza del suo Fiat nel mio volere. Non appena il Fiat divino si incontrò col Fiat della mia mamma, se ne fecero uno solo. Il mio Fiat la innalzò, la divinizò, la adombrò e senza opera umana concepì me, figlio di Dio. Nel solo mio Fiat poteva concepirmi. Non Dio quindi la poteva. Il mio Fiat le comunicò l'immensità, l'infinità, la fecondità, in modo divino. Immensità, l'infinità, la fecondità in modo divino. E perciò potette restare concepito in lei l'immenso, l'eterno, l'infinito, Gesù. Non appena disse Fiat mi, non solo si impossessò di me, ma adombrò insieme tutte le creature, tutte le cose create. sentiva tutte le vite delle creature in sé. Ed allora incominciò a farla da madre e da regina di tutti. Quanti portenti non contiene questo sì della mia mamma. Se li volessi dire tutti, non finiresti mai di sentirmi. E' bello ricordare che siccome stiamo parlando dei mari di Maria Santissima e il primo dei mari, la potenza del mio Fiat, nel momento del suo concepimento il padre versò mari di potenza. E quindi il primo dei mari in cui venne concepita Maria Santissima è il mare di potenza del padre, o la sapienza del figlio e l'amore dello spirito. E poi dice qui, si ingrandivano, infatti poi dice, questi mari costituiscono la sostanza del suo concepimento. Non soltanto in essi ella venne concepita, ma questi mari restarono intorno a lei, come leggiamo nel volume 15 all'8 dicembre, non solo per proteggerla, ma anche per farla crescere. Quindi tutto il sistema infinito di mari di Maria Santissima trae origine nei mari di potenza, di sapienza e d'amore che il padre, il figlio e lo spirito santo hanno messo fuori da loro stessi nel suo concepimento. All'interno di questi mari lei è rimasta concepita e per ogni atto che ha fatto questi mari si espandevano, si arricchivano e oltre alla potenza, la sapienza e l'amore troviamo il virtù, la preghiera, la pace, il dolore, la gioia, il coraggio, eccetera, eccetera. E quindi questi mari si sono sempre espansi in lei, perché ogni atto nella divina volontà è un atto nuovo, crescente. Dal mio Fiat uscì la creazione, perciò in ogni cosa creata si vede l'impronta del Fiat. Dal Fiat Mi della mia cara mamma, detto nel mio volere, il quale ebbe la stessa potenza del mio Fiat creatore, uscì la redenzione dal Fiat Mi di Maria, uscì la redenzione. Sicché non c'è cosa della redenzione che non contenga l'impronta del Fiat Mi della mia mamma. Anche la mia stessa umanità, i miei passi, le opere, le parole, erano suggellate dal Fiat Mi di lei. Le mie pene, le chiave, le spine, la croce, il mio sangue, il suo Fiat Mi ne teneva l'impronta, perché le cose portano l'impronta dall'origine d'onde sono uscite. La mia origine nel tempo, Gesù che parla, la mia origine nel tempo fu dal Fiat Mi dell'immacolata mamma. Perciò tutto il mio operato porta il segno del suo Fiat Mi. sicché in ogni ostia sacramentale c'è il suo Fiat Mi. Se l'uomo sorge dalla colpa, se il neonato è battenzato, se il cielo si apre per ricevere le anime, è il Fiat Mi della mia mamma che segna, che segue, che procede, e dice, cioè non è corretto grammaticalmente, però è il Fiat Mi della mia mamma che segna, che segue, e procede tutto, sarebbe, e da cui procede tutto. E' proprio il esempio. Quindi procedere, sì. E' quello corretto nell'altra versione. Procede tutto. O potenza del Fiat potenza del Fiat esso sorge ad ogni istante si moltiplica e si fa vita di tutti i beni. Quindi ogni cosa della creazione c'ha questo impronta del Fiat Lux ogni atto della redenzione dell'incarnazione del Verbo all'istituzione dei sacramenti, ogni parola di Gesù, ogni pena di Gesù, ogni goccio di sangue di Gesù, tutto quello, le opere, gli atti della redenzione hanno come atto iniziale, generante, da cui tutto procede, l'atto uno è il Fiat Miki di Maria e così ogni atto della santificazione, quindi ogni parola di queste verità del Regno della Divina Volontà, ogni atto nella Divina Volontà, ogni santificazione d'anima hanno come impronta il Fiat di Luisa, quando Gesù nel volume 12 dice vuoi vivere nella mia Divina Volontà, Luisa? Sì, ma sicuro che vuoi vivere? Sì, ma vuoi vivere nella mia Divina Volontà? Io te lo dico questo Fiat, ma lo prendo da dentro di te il Fiat, perché da sola non lo posso dire, è come il riecheggiare di Pietro, ami le mie, dice sì, alla terza domanda, uno si dice, ma insomma, allora dice, come non posso essere sicura di questo Fiat? Lo prendo da dentro di te. Allora, come Dio è uno e trino, ma anche il Fiat è uno e trino, quindi non sono dei Fiat separati, il Fiat Lux, il Fiat Michi e il Fiat Volontà Stua, sono dei Fiat che sono trino, sono separati e ognuno illumina e procede e sfolgora di luce uno nell'opera della creazione, uno nell'opera della santificazione, ma sono poi uno stesso Fiat, per cui il Fiat Michi di Maria si vede anche nel cielo, nelle stelle e nelle anime che vivono nella limina lontà, il Fiat Lux si vede anche nelle opere della redenzione e della santificazione, il Fiat Volontà Stua si vede e entra anche nel cielo e nella redenzione, quindi creazione, redenzione, santificazione e i tre Fiat sono uno e trino, un solo, come Dio e uno è trino, uno è un Dio, tre persone e quindi si fondono a vicenda ma ognuno sfoggia qualcosa di particolare in cui gli altri concorrono come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. quindi ogni atto ogni consagrazione sacramentale, l'incarnazione, le lacrime di Gesù, ogni volta che ci andiamo a confesa, qualsiasi atto della redenzione, ogni conversione, ogni parola del Vangelo c'ha l'impronta iniziale, generante da cui tutto procede del Fiat Michi di Maria. Quello della santificazione, scusa, il Fiat come? E' il Fiat di Luisa, il Fiat di Luisa, che sarebbe il Fiat Voluntas Tua sicuramente in terra, quello era deposto in Gesù, ma messo, operante, dentro la creatura, quindi il Fiat di Luisa, il prototipo dell'anima che vive nella Divina Voluntà, il suo Fiat, è atto primo, atto madre, atto da cui procede la santificazione, quindi la seconda generazione dei figli della luce, quindi procede il vivere nella Divina Voluntà per tutte le creature di origine comune, quindi nate con peccato originale, quindi il Fiat di Luisa è il Fiat madre della santificazione di tutta l'umanità secondo il regime come in cielo, così in terra. E' bello, questo è il volume, alla fine del volume 12, questo abbiamo letto nel volume 21, verso il gennaio del volume 21, alla fine del volume 12, poi inizia il volume 13, proprio ci sono due o tre passi tutti sul Fiat miti di Maria, e parla anche poi dei tre Fiat, è la prima volta in cui Gesù inizia a spiegare, lui dice mamma mia, il primo Fiat lo ha detto diciamo è la reazione, il secondo è la redenzione, e il terzo indovina di chi è? di chi è Gesù? Ah, allora fai vinta di non capire della piccola figlia della divina volontà. Dalla Vergine Maria il diciottesimo giorno, Maria Santissima ci dice nella casa di Nazareth io mi sentivo più che mai accesa e pregavo che il verbo divino scendesse sulla terra. La corredentrice, ma poi in Petra, in tutti i suoi atti, completa con quegli atti necessari perché il verbo venga dato la terra anche nazionale. La divina volontà che regnava in me non faceva altro che investire tutti i miei atti di luce, di bellezza, di santità, di potenza. Sentivo che formava in me il regno della luce, ma la luce che sorge sempre, che sempre sorge, il regno della bellezza, la santità e potenza che sempre cresce. sicché tutte le qualità divine che il fio divino stendeva in me col suo regnare mi portavano la fecondità. La luce che mi invadeva era canta e la stessa mia umanità restava talmente ambellita e investita da questo sole del volere divino che non faceva altro che produrre fiori celesti. Io sentivo che il cielo si abbassava fino a me e che la terra della mia umanità saliva e il cielo e terra si abbracciavano si appacificavano per darsi il bacio di pace e d'amore e la terra si disponeva a produrre il germe per formare il giusto il santo ed il cielo si apriva per far discendere il verbo in questo genere. Una meraviglia è la nittura qui. Ecco questo è proprio il volume il giorno 18 cioè il giorno 17 quando esce dal tempio il giorno 19 è l'incarnazione del verbo il giorno 18 sta in mezzo ai due ed è lei accesissima nella casa di Nazareth ricolma di tutti quegli atti che aveva fatto nel tempio non ce la faceva più era come se il verbo voleva scendere e lì lo voleva chiedere quindi questo è il giorno di transizione dopo che lei esce nel tempio quella vita a Nazareth che precede il momento dell'incarnazione. io non facevo altro che scendere salire alla mia Patria Celeste e gettarmi nelle braccia paterne del mio Padre Celeste e gli dicevo con il cuore Padre Santo non ne posso più mi sento bruciata e mentre brucio sento una forza potente in me che vuole vincermi con le catene del mio amore voglio regarvi per disarmarvi affinché non più indugiate ma sulle ali del mio amore voglio trasportare il verbo divino dal cielo e in terra e pregavo e piangevo che mi ascoltasse e la divinità vinta dalle mie lacrime e preghiere mi assicurò col dirmi figlia chi ti può resistere hai vinto l'ora divina è vicina tu ritorna alla terra e continua i tuoi atti nella potenza del mio volere e con questi tutti resteranno scossi e cielo e terra si daranno il bacio di pace il primo palpito il primo pensiero la prima parola insomma tutto ciò che voi potete fare dopo stavano i nostri atti primi fatti in lui e sopra dei nostri primi atti seguivano gli atti di Adamo perciò se amava sorgeva il suo amore da dentro il nostro primo atto d'amore se pensava sorgeva da dentro il nostro pensiero più il suo pensiero e così di tutto il resto se noi non avessimo fatto i primi atti in lui non avrebbe potuto né far nulla né saper far nulla invece col fare l'ente supremo in primi atti mettevamo in Adamo tante fontanine per quanti atti i primi facemmo in lui in modo che ogni qual volta voleva ripetere i nostri primi atti tenesse a sua disposizione queste fontanine come tante diverse sorgenti d'amore di pensieri di parole di opere e di passi quindi tutto era nostro dentro e fuori dell'uomo perciò la nostra gelosia non solo era un diritto ma anche giustizia che tutto doveva essere per noi e tutto nostro molto più che gli davamo il nostro volere divino affinché ce lo conservasse bello fresco e ce lo facesse crescere di una deltà divina il nostro amore non era contento né soddisfatto di tanto che gli aveva dato voleva continuare a dare sempre non voleva dire basta voleva continuare la sua opera d'amore e per averlo con sé per avere che ci ha a che fare con l'uomo gli dava il nostro stesso volere affinché lo rendesse capace di poter sempre ricevere e di tenerlo sempre con noi con una sola volontà con essa tutto era garantito e al sicuro per lui e per noi sì che doveva essere il nostro trastullo la gioia e felicità nostra oggetto di nostra conversazione perciò al ricordo della creazione dell'uomo il nostro amore si atteggia a festa ma col vederlo dopo il peccato d'origine senza la garanzia del nostro fiat senza sicurezza e quindi vacillante sfigurato e quindi lontano da noi si atteggia mestizia e sente tutto il peso del nostro amore infinito come chiuso in sé stesso perché non può darsi a lui perché non lo trova nella nostra divina volontà ma tutto ciò non è tutto non fu al soladamo che tanto si versò il nostro amore che giunse a fare tutti i primi atti dai quali dovevano aver vita tutti gli atti umani ma ciascuna creatura che doveva venire alla luce del giorno fu presente in quell'atto della creazione dell'uomo e il nostro fiat unito al nostro amore correva correva e abbracciando tutti ed amando con un solo amore tutti metteva il primato dei nostri atti in ciascuna creatura che sarebbe venuta all'esistenza perché per noi non c'è né passato né futuro ma tutto è presente ed in atto se ciò non fosse il nostro fiat si troverebbe ristretto e incettato ne potrebbe allargare tanto le sue fiamme da racchiudere tutti nella sua luce in modo da fare in tutti quello che fa in una sola creatura perciò non fu il solo Adamo il fortunato della creazione ma tutte le altre creature venivano arricchite di tutti i beni ed in lui posseditrici dei suoi stessi beni molto più che tutto ciò che Dio fa in una sola creatura tutte le altre creature acquistano il diritto degli atti nostri meno che chi non vuole servirsene non successe ciò nella stessa redenzione come la sovrana del cielo ebbe il bene di concepirmi e di darmi alla luce tutte le altre creature acquistarono i diritti dei beni della redenzione non solo ma di potermi ricevermi ciascuna nei loro cuori e solo chi ingrata non mi vuole rimane prima di me ora figlia mia prosegue Gesù Luisa ora figlia mia Adamo col disubbidire i nostri voleri perdette il nostro regno e tutti i beni del nostro fiat rimasero per lui senza la vita alimentatrice e vivificatrice della nostra divina volontà si può dire che fu il distruttore dei beni del regno della mia volontà nell'anima sua perché a tutti i beni se manca la virtù vivificatrice e l'alimento continuo da per se stessi a poco a poco perdono la vita bello vedere qui Gesù dice Adamo mica che qualcuno mica gli ha detto qualcuno di respiro come ha fatto a inventarsi il respiro il passo la parola il moto allora ogni primo atto doveva essere fatto da Dio per cui l'ammatrice di ogni atto umano non è in Adamo è in Dio proprio allora come fa a essere in Dio ovviamente Dio assumendo natura umana sono fatti dal verbo incarnato quindi i primi atti di Adamo la matrice di ogni atto dell'uomo è nell'atto del verbo incarnato insieme con il Padre e lo Spirito Santo quindi l'atto primo la matrice di ogni atto umano divinizzato iniziare da Adamo è in Gesù Cristo nel verbo incarnato e quindi immaginiamo che la differenza quando si dice che l'uomo ha imparato ha scoperto ha fatto quello così viene dalla scimmia così c'è la teoria diabolica che dice che la matrice degli atti umani sono in una scimmia quando Dio dice no la matrice degli atti umani sono in Dio vediamo quanto è diabolica quella teoria che vuole minare alla base proprio l'origine divina dell'uomo e di ciascun atto umano e quindi mina alla base lo stesso regno della divina volontà perché come fa a avere un regno divino l'uomo che invece di venire da Dio viene dalla scimmia e comunque qui lo dico e qui lo nego però io ho un pensiero che non è l'uomo che viene dalla scimmia ma la scimmia che viene dall'uomo purtroppo no no veramente è una frase che mi colpì però vabbè qui poi chiudiamo la discussione ognuno vuole cosarlo da una parte del libro di Caterina Emmerich dove dice nell'Antico Testamento nel creato non lo so perché ha dovuto dire questa frase ma l'ha detta sta nei primi 120 pagine diciamo delle sue scritte dice quando vedeva l'uomo e tutto io dice ho visto tanti animali però la scimmia non l'ho vista no c'è poco da ridere perché se questo è vero cioè quando l'uomo fece quelle abominazioni e gli uomini si unirono con gli animali venne fuori capito allora io dico è più probabile che la scimmia venga dall'uomo e quando vediamo le scimmie nel circo oppure nei cosi che quasi ci sentiamo scossi dal vedere quanto ci somigliano o quanto eccetera eccetera diciamo altro che noi venire da loro potrebbero essere loro il frutto dell'abominazione di certi miscugli che fece l'uomo prima diciamo ai tempi di insomma quando dice i figli di Dio che si mischiavano con i così no no magari il signore non vuole che lo concluda però io dico il signore la Bibbia ne parla queste atroci connubi dell'uomo con la bestia e allora non escludo che da questi atroci connubi vennero fuori degli esseri che ovviamente non avendo anima non essendo che l'uomo venga dalla scimmia quanto più probabile è che la scimmia che venga dall'uomo basta chiusa parentesi ognuno può riflettere e studiare questo può venire fuori una creatura ognuno no sicuro no passare sono questi giorni che non so il popolo di Dio che fanno no 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 per carità la scimmia non è un uomo è un animale non facciamo proiezioni ho fatto male di dire questa cosa perché assolutamente assolutamente è un animale è dura è dura è una verità pesante però non escludo non escludo che con con la scienza con la scienza infusa non escludo che con le verità del vivere del vivere magari il signore voglia illuminare l'umanità su questo questa verità che soppianta completamente l'impianto bambolo di teoria dell'evoluzione e faccio invece capire come sia ahimè tutto il contrario Luisa nel volume 24 20 maggio del 28 scrive stavo impensierita per una circolare giuntami per la casa della divina volontà tanto voluta dal venerato padre di Francia e tanto da lui sospirata che non ebbe la consolazione di vedere compiuta e aperta allo scopo da lui voluto ed ora finalmente da ciò che diceva la circolare spuntava il giorno forse prossimo dell'effettuarsi di essere il giorno era 20 maggio è stata fino al 38 sì però fino fino al 38 10 anni è stata lì adesso la circolare gliela mandano a maggio e le dicono tieniti pronta Luisa che ti devi trasferire e lei si diceva oh mamma mia ora devo andare ci è arrivata sta circolare e comunque si è fatta la volontà di Dio perché devo comunque diciamo anche dopo la sua morte accontentare il padre di Francia che lui ha fatto costruire sto convento proprio accorato proprio perché io dovevo vivere tra le sue figlie del divino zelo e quindi si preparava poi a fare sto trasferimento che sarebbe trasferito effettuato poi ottobre mi pare 7 ottobre giorno della maggior del rosario 7 ottobre brava sì e il 7 ottobre 10 anni dopo è uscita il 28 sì sì ed ora finalmente da ciò che diceva la circolare spuntava il giorno forse prossimo dell'effettuarsi di essa oggi io pensavo tra me sarà proprio vero che la volontà di Dio che è volontà di Dio che io vi andassi e componente di questa casa saranno esse le vere piccole figlie della divina volontà saranno esse il principio dell'inizio di quell'era divina del regno del fio supremo sulla terra ma mentre ciò pensavo e altro mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto figlia mia ogni detto opera il sacrificio che si fa nella mia volontà e per ottenere il regno divino con lo scopo sempre l'intenzione di Gesù negli atti di Gesù l'intenzione era sempre chiedere la regno del fio sulla terra gloria del padre e la santificazione dell'anima la richiesta del regno del fio ogni detto opera e sacrificio che si fa nella mia volontà per ottenere il regno divino sono tanti messaggeri che si spediscono per la patria celeste i quali portano la circolare divina e la fanno girare a tutti i santi agli angeli alla sovrana regina e allo stesso creatore dando a ciascuno l'impegno di preparare le diverse cose che ci vogliono per un regno sì santo affinché tutto sia fatto con decoro con decenza e con nobiltà divina oltre a tutti gli abitatori della patria divina con questa circolare celeste nelle loro mani si mettono tutti all'opera di soddisfare al loro compito di preparare ciascuna cosa a loro imposta sicché la circolare della terra fa il suo eco alla circolare celeste e c'è la terra si muovono si occupano per il solo scopo del regno della mia volontà divina la terra per tutto ciò che necessita nell'ordine naturale la corte celeste per tutto ciò che riguarda nell'ordine soprannaturale pare che cielo e terra si danno la mano e fanno a gara a chi più faccia più presto a preparare un regno sessanto se tu sapessi che valore tiene un atto fatto nella mia volontà come sa muovere cielo e terra come si sa aprire la via ovunque si mette in comunicazione con tutti ed ottiene tutto ciò che non si è ottenuto per tutti gli atti insieme e per tanti secoli a più mare e a più mare sono non un sole ma tanti soli per quanti atti si fanno che formano il giorno fulgido e smagliante del regno della mia volontà sulla terra gli atti fatti in essa nella divina volontà sono spinte al lente supremo sono calamite che lo attirano sono dolci catene che lo legano sono rapimento in cui la creatura tiene la forza di formare l'estasi al suo creatore l'atto di volontà divina crea l'estasi al creatore il quale rapito come in dolce sonno dall'estasi che gli ha formato la sua amata creatura concede ciò che voleva dare da tanti secoli ma non trovava colei che stasiandolo con la sua stessa forza divina si rendeva rapitrice del regno della sua volontà divina come la creatura si muove nel mio fiat e forma il suo atto così Dio si sente rapire e nel suo dolce soppore si sente disarmato e vinto e la creatura resta la vincitrice del suo creatore con questi preparativi succede come uno sposo che dovendo fare il suo sposalizio si prepara l'abitazione la stanza da letto tutti gli oggetti che gli vogliono che ci vogliono per fare che nulla li manchi poi si passa alle vesti dello sposalizio si fanno gli inviti tutto ciò fa decidere lo sposo di compiere ciò che lui stesso voleva ma se nulla si prepara lo sposo prende tempo e mai si decide e lo stesso si sente impacciato e dice tra sé devo sposare e non ho l'abitazione non ho il letto dove dormire non ho le vesti per compagire la sposa che figura devo fare e di necessità si toglie qualunque pensiero di fare lo sposo così questi preparativi gli atti fatti nella mia volontà le circolari sono spinte a muovere il mio volere che venga a regnare in mezzo alle creature e le mie conoscenze sono come lo sposo che viene a sposare le creature con i nuovi virgoli come uscita alle nostre mani creatrici Gesù può sempre tutto è stabilito dal letto supremo preghiere atti pene sospiri che deve fare la creatura per ottenere ciò che noi stessi vogliamo darle ed esso sospira di ricevere sicché se questi atti non vengono compiti non spunta da noi il sospirato sole in mezzo alla lunga notte dell'umana volontà per formare il giorno del regno del fiat divino perciò molte volte succede che si fanno tanti atti e preghiere e nulla si ottiene poi per un altro piccolo sospiro e preghiera si ottiene ciò che tanto si sospirava forse è stato l'ultimo atto che ha ottenuto il restritto della grazia ah no è stata la continuazione di tutti gli atti e preghiere e se si vede che si ottiene con quell'ultimo atto è perché ci voleva al numero da noi stabilito otte se tu vuoi ricevere il regno del volere divino non ti arrestare altrimenti mancando la lunga catena degli atti che giunge fino al trono di Dio non otterrai ciò che tu vuoi e noi vogliamo dare chiaro come il sospiro gli atti sono come le ore che formano il giorno o la notte ogni ora tiene il suo posto alcune ore formano la sera altre la notte finta altre ore l'alba altre lo spuntare del sole altre il pieno giorno e se è l'ora di mezzanotte in darme vuole vedere che spunta il sole è necessario che venga l'alba almeno per bagheggiare il vicino giorno per vedere la maestà del sole che col suo impero di luce funga le tenebre e mettendo termine alla notte imperla e fa risorgere tutta la natura della sua luce e del suo calore la smando tutto con i suoi benefici effetti ora è forse l'alba che tiene tutto l'onore di fare spuntare il sole ah no essa è stata l'ultima ora ma se le altre ore non l'avevano preceduta mai poteva dire l'alba io sono con lei che chiamo il giorno così sono gli atti le preghiere per ottenere che spunta il giorno del reino della mia volontà divina sono come tante ore ed ognuna tiene il suo posto d'onore e si danno la mano fra loro e chiamano il fulgido sole del mio volere divino l'ultimo atto può essere come l'alba e se questo non si fa mancherà l'alba ed è inutile aspettare che presto sorge il suo giorno di luce sulla terra che plasmando e riscaldando tutto farà sentire più che sole i suoi benefici effetti il suo regime divino regime di luce di amore e di santità così successe nella redenzione per tanti secoli la redenzione non venne perché i patriarchi e i profeti si trovavano con i loro atti come nelle ore notturne e dall'ottano sospiravano il giorno come venne la vergine regina formò l'alba ed abbracciando insieme tutte le ore notturne fece spuntare il giorno del verbo sulla terra la redenzione venne compita perciò non ti arrestare è tanto necessaria la serie degli atti che passa pericolo che se tutti non vengono compiuti non si ottiene il bene che si testa c'è che ha detto chiaro come il sole prima io mi ha detto mi ha detto la cosa che come diciamo ogni cosa che troviamo in più arricchisce i nostri atti adesso l'atto che ci fa vedere Gesù utilizzando sempre il suo linguaggio celeste è quello proprio della circolare allora ha preso a spunto questa lettera che Luisa chiama la circolare gli arriva una circolare che forse la differenza tra la circolare e la lettera è che la lettera è messa in busta magari chiusa la circolare invece è piegata così la fanno circolare allora dice che dal cielo alla terra partono le loro circolari quindi è volontà di Dio che Luisa si trasferisse in quella casa perché finalmente così come Gesù era stato lontano nel deserto 40 anni così Luisa dopo 40 anni doveva tornare a stare vicino alla custodia del tabernacolo e quindi aveva questo ritornare vicino e stare vicino alla cappellina di Gesù sacramentato aveva anche questo compimento di questo altro atto di questo altro passo della vita di Luisa che imitava ripeteva la vita di Gesù però oltre a questi circolari terresi che sono i passi materiali diceva Luisa si trasferisce poi così e poco là ci sono anche le circolari celesti che vanno dagli angeli e i santi e se le passano tra di loro dice guarda dobbiamo andare e Luisa sta chiamando tutta la creazione passa questa circolare in un istante e tutti quanti si fiondano nella creazione per fare eco agli atti di Luisa nella creazione poi Luisa passa nei mari di Maria Santissima arriva quest'altra circolare celeste tutti si fiondano perché il cielo riceva la gloria l'onore la beatitudine la gioia di questi nuovi atti di volontà divina conquistante che si stanno facendo sulla terra e quindi questa circolare celeste circola in cielo non soltanto per partecipare agli atti di divina volontà ma anche per andare in soccorso per andare ad ispirare le anime magari alcune anime avevano comprato il libro della Vergine Maria vai lì i santi protettori che siondano su queste anime cercano di instillare in loro quel desiderio di prendere quel libretto e intercedono e cercano di aiutare di dare grazia di dare forza a Luisa quando lei è stanca non ce la fa più nella pena della privazione quindi è bello vedere come la terra compie il suo lavoro lo spazio nel tempo dove c'è anche la materia lo sforzo il sudore il dolore e il cielo compie il suo lavoro con queste circolari celesti di partecipazione di gloria di supporto di preghiera di lode di comunione dei santi e quindi la circolare celeste e la circolare terrena si uniscono come pure la comunione dei santi si unisce tra il cielo eterna e la divina volontà questa nuova verità che abbiamo letto in questo passo insieme a tante altre ecco mi arricchisce gli atti e quindi quando inizio a pensare a chiamare volontà nei miei atti a immaginare questa circolare che va in giro e tutti quanti si fiondano e tutti leggono questa circolare vi mettono del loro e partecipano all'atto della divina volontà ora come gloria ora come supporto ora come preghiera come supplica come riparazione ecco tutti gli angeli e i santi e tutto il cielo viene tenuto al corrente di quello che fa la divina volontà dalla circolare divina e quindi tutti vi partecipano e nessuno vorrebbe mai sottrarvisi per qualunque ragione in cielo e in terra ecco questa bellissima verità ecco ci riempie della gioia della comunione tra cielo e terra nel volume 20 del piccolo titoletto il 4 novembre del 26 la coppia più perfetta dei figli del regno del mio volere fu la mia mamma una celeste la coppia più perfetta dei figli del regno del mio volere fu la mia mamma una celeste leggiamo insieme Gesù nella tua volontà che abbiamo appreso come vita nostra come vita nella nostra lettura dei nostri pensieri della nostra mente del nostro cuore nel regno del fiat supremo avremo le coppie della sovrana regina dice Gesù Lovisa nel regno del fiat supremo avremo le coppie della sovrana regina sicché anche lei sospira aspetta questo regno divino sulla terra per avere le sue coppie sulla terra per avere le sue coppie che bel regno che sarà il regno di luce di ricchezza infinite regno di perfetta santità e di dominio la santità stessa di Dio della volontà divina quindi di Dio i figli nostri di questo regno saranno tutti re e regine saranno tutti sangue divino della trinità saranno tutti appartenenti alla famiglia divina e reale racchiuderanno in loro tutta la creazione avranno le similità disubini la figionomia del nostro padre celeste e perciò saranno il compimento della nostra gloria e la corona del nostro capo i figli dei figli del regno della vicenda regno di Dio sulla terra l'altra parte Dio doveva venire a regnare sulla terra deve regnare sulla terra il paradiso terrestre era terrestre non era terrestre la mia mamma la mia mamma celeste fu la prima che occupò il primo posto nel cielo come figlia del volere supremo e siccome fu la prima tiene intorno a sé il posto per tutti i figli del figlio supremo sicché intorno alla regina del cielo si vedono tanti posti vuoti che non possono essere occupati da altri se non dalle sue coppie e siccome fu lei la prima della generazione della mia volontà il regno del Fiat si chiamerà pure il regno della Vergine il regno del Fiat si chiamerà il regno della Vergine o come in questi figli nostri si riconoscerà la sovranità su tutta la creazione come era per Adamo inizio che non si è perché essi in virtù della mia volontà goderanno vincoli indissolubili con tutte le cose create staranno in continui rapporti di comunicazione con esse per la creazione saranno come era l'inizio tutto in ordine saranno e lui era la messa come rete l'universo saranno i veri figli in cui l'eterno creatore si sentirà onorato glorificato da verli per figli perché riconosceranno in loro la loro delle tre prime persone la loro volontà divina operante che ha riprodotto le sue vere immagini gli altri facciamo nel divolo della divina e noi diciamo che non riesco gli altri facciamo nel divolo della divina non è che viene così senza amare il regno suo però vuole gli altri nostri nella divina volontà la regina sovrana non sarà più sola nel suo regio trono avrà le altre regine che lo circonderanno non è che viene così ma è che viene così è il volume 23 il volume 23 il volume 23 sì Carla sì no solo una una sottolineatura mi senti? sì sì ah solo una sottolineatura di due parole che sembrano piccole però come dire Gesù le usa e racchiudono tutto saranno i veri figli in cui l'eterno creatore si sentirà onorato e glorificato onore e gloria queste sono anche le ultime parole degli scritti di Luisa in cui si fa un inno alla madre regina sono i veri figli che le daranno onore e gloria allora queste due parole racchiudono tutto perché in un volume è bello sapere che cosa vuol dire a volte sono due parole che ci danno l'idea di una cosa bella ma che cosa vogliono dire in modo specifico non lo sappiamo ne abbiamo forse già parlato in passato però mi piace ricordarlo il volume che adesso non ricordo Gesù spiega che io ti onoro quando ti do la possibilità di darmi tutto quello che hai a me mi viene semplice l'esempio della cucina quando si dice onorare la cuoca se tu mangi assaggi tutto quello che lei ti ha preparato onori la cuoca se chiedi il bis onori la cuoca onorare la padrona di casa quando accetti l'invito quindi dai la possibilità a quella persona di darti e quindi i veri figli della divina volontà Dio si sente onorato perché finalmente ha la possibilità di dare tutto quello che vuole di dare tutto quello che vuole è glorificato la gloria ha a che fare sempre quando sentiamo gloria pensiamo sempre a compimento della volontà di Dio si dà gloria a Dio quando si compie lo scopo una cosa creata dà gloria a Dio quando compie lo scopo per cui è stata creata noi diamo gloria a Dio finalmente quando compiamo lo scopo per cui siamo stati creati quindi l'eterno creatore addirittura nell'ultimo ancora passo degli scritti di Luisa del 28 dicembre 1938 dove c'è questa apologia alla madre santissima ancora il regno della vergine lei finalmente sarà onorata e glorificata insieme a Dio cioè potrà onorata avere l'opportunità di dare tutto quello che ha tutta la sua maternità divina generare Gesù vero completo in ognuno dei suoi figli e si sentirà glorificata perché finalmente vede compiuto nei suoi figli lo scopo per cui sono stati creati ecco una riflessione proprio su queste due brevi paroline che però vogliono dire tutto e per questo Gesù le ripete in modo specifico non a caso nel voler indicare la completezza onorare dare la possibilità a Dio di darci se noi non ci disponiamo lui non viene onorato perché non ci può dare quello che ha glorificarlo quando lasciamo che lo scopo della creazione si compia su di noi possiamo andare avanti la regina sovrana non sarà più sola nel suo reggio trono avrà le altre regine che la circonderanno volume 23 18 gennaio del 28 la regina del cielo nella sua gloria e grandezza è come isolata perché avendo vissuto lei sola nel primo atto di Dio cioè nella pienezza e totalità del volere divino essa è regina isolata non è il corteccio delle altre regine che la circondano e la pareggiano nella gloria e grandezza che possiede essa si trova nelle condizioni di una regina che è sempre circondata da damigelle da panci da figli amici che le fanno onore e le tengono compagnia ma nessuna regina appare a lei le fa il grande onore di circondarla e di tenerle compagnia che sarebbe più onore ad una regina della terra essere circondata da altre regine pare a lei oppure da persone inferiori di condizione di gloria di grandezza di bellezza passa tal distanza d'onore e di gloria tra chi è circondata da regine e chi solo è circondato da altri che nessun paragone regge al confronto bello ritornano queste parole onore e gloria cioè lei si sente onorata se può trasmettere a noi la sua regalità e quindi se le diamo l'opportunità di trasmetterci la sua regalità la sua maternità divina quindi onorare la regina figlio mio figlio del mio materno cuore volume 34 10 del prete 37 figlio mio figlio del mio materno cuore tu mi hai costituita regina e madre ma dov'è il mio popolo Maria Santissima che parlava il figlio i miei figli dove sono se fossi capace di soffrire io sarei la regina la madre più infelice perché pur possedendo il regno io sono priva di sudditi che vivono della stessa volontà di cui io vivo in chi in chi mi sarà dato provare le gioie della mia maternità se non ho figli cui poter affidare la mia grande eredità fa che regni presto il figlio divino poiché la tua mamma si sentirà felice a pieno soltanto quando avrà il suo popolo e la sua figliolanza diventi come lei della tua volontà credi tu figlia mia che io possa rimanere indifferente a questa accorata preghiera della madre mia che continuamente risuona il mio orecchio dolcemente si insinua nel mio cuore e lo ferisce come freccia d'amore no né io lo posso né io lo voglio da quella non mi negò mai nulla di quanto le chiesi da quella non mi negò mai nulla di quanto le chiesi come potrei opporle a un rifiuto il mio stesso cuore mi spinge ad accontentarla per incoraggiarti di più ad unire le tue alle nostre brame voglio che ti rivolga la parola la stessa mamma mia dice Gesù figlia del mio materno cuore il regno della divina volontà sarà infallibilmente il regno mio poiché a me lo affidò la trinità sacrosanta i decreti divini non si espostano neanche più così come mi affidò il verbo eterno allora quando egli discese dal cielo in terra ora coi miei sostiri ardenti con le mie preghiere incessanti ed ora col mio amore di madre e coi miei diritti di regina io prendo da santo la trinità santissima affinché questo regno veda la luce e rioffi l'italiano si dice vede ma meglio questi miei sostiri l'italiano che resta sono questi miei sostiri mi bruciano talmente da sentirmi come se in realtà non avessi gloria mentre ne ho tanta che cielo e terra ne sono ripieni perciò se non vedo formato il regno della divina volontà in mezzo ai figli miei non sarò appieno felice solo allora sarò tale quando essi vivranno in questo regno perché ognuno allora mi raddoppierà la gloria che ora già possegco chiamando perciò gli uomini continuamente al mio cuore io vor ripetendo loro figli miei venite alla mamma vostra amatemi come io vi amo se voi non vivrete di quella medesima volontà di cui vissi io stessa non potrete offrirmi amore di veri figli né vi sarà possibile conoscere sin dove giunga il mio amore per voi immagina mia diletta che l'ardente brama che ho di questo regno mi spinge a discendere dal cielo e a visitare tutte le anni grazie 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 quando trovo un cuore quando trovo un cuore disposto a vivere di volontà divina io penetro in esso e divi formo la mia dimora per preparare con decoro e con amore il posto al fiat divino che a sua volta prenderà possesso dell'anima e formerà in essa la propria vita ecco perché sempre con lei sempre con lei per raggiungere per raggiungere questo mio intento io mi renderò inseparabile dai figli miei metterò a loro disposizione come muro insormontabile di fortezza la mia vita il mio amore le mie virtù i miei dolori affinché essi possano trovare nella madre loro tutti gli aiuti di cui ha bisogno per vivere in questo regno sessanto allora il mio gaudio sarà completo il mio amore si riposerà nelle creature la mia maternità troverà in esse il vero affetto figliare mettendo in festa cielo e terra farò a tutte da regina e spanderò ovunque grazie inaudite e sorprendenti e poi i caroli si inclinano tutta l'amora si inclinano e li fa sogno un paio benissimo figlia di Letta rimani sempre strettamente unita alla mamma tua per invocare ed anelare ingessantemente con lei il regno della volontà divina vieni o volere supremo a regnare sulla terra in vesco di tutte le generazioni in vincere come si è da te non ha ciascato adesso si si leggere no volevo solo ecco fare riferimento a quando lei dice riceverò doppia gloria proprio la gloria come abbiamo detto si riferisce al compito della volontà di Dio se ne è stato dato il compito della redenzione e quindi il suo Fiat Mi è impresso in ogni atto della redenzione con diritto materno le è stato anche dato il compito come dire di scendere dal cielo e radunare i suoi figli fino a che non li ha radunati tutti non li ha chiamati tutti non è andata come dice lei in ogni paese in ogni comunità in ogni famiglia da ogni individuo per raggruppare e fare come mamma essere come mamma raggruppare i suoi figli come regina far regnare la divina volontà la sua gloria non è completa perché lei la sua gloria che è la stessa gloria divina riferita alla creazione quindi la gloria ad extra delle opere di Dio non è ancora completa quindi quando riceve la risposta dei figli della divina volontà può fare la divina volontà nei suoi figli la sua gloria è raddoppiata e quindi dobbiamo vedere sempre come gloria la parola è sempre legata al compimento della volontà di Dio ora la mamma celeste vuole desidera aspetta il regno della volontà divina sulla terra nel quale ci saranno le anime che vivendo in esso formeranno la vita nel primo atto di Dio le quali acquisteranno la regalità e il diritto di regina si vedrà da tutti impresso in loro un carattere incancellabile che sono figlie del re divino e come figlie l'aspetta il titolo e il diritto di regina queste anime terranno la loro dimora nella reggia divina perciò acquisteranno nobiltà di modi di opere di passi di parole possederanno tale scienza che nessuna le potrà eguagliare saranno investite di tale luce che la luce stessa annunzerà a tutti che è regina che ha vissuto nella reggia della mia volontà con della regina sovrana non sarà più solo nel suo regio trono avrà le altre regine che la circonderanno la sua bellezza rifletterà in esse la sua gloria e grandezza troverà in chi potrà versarsi o come si sentirà onorata glorificata perciò desidera chi vuole perciò desidera chi vuole vivere nel fiat divino per formarsi le regine nell'atto primo di esso per poter avere nella patria celeste il seguito delle altre regine che la circonderanno e le daranno gli onori a lei dovuti ecco mi viene immediatamente che bene fortuna poter diciamo avere una pallida idea di che cosa vuol dire il dono della divina volontà pallidissima come ancora ce l'abbiamo noi immaginiamo adesso che questa cosa che abbiamo letto immaginiamo una persona che non conosce allora pensa queste anime staranno come regine nel regno della redenzione dove tutto su meriti umani la risposta alla grazia dice ma no io non merito tanto ma come come potrò mai raggiungere questa cosa qui invece ne è la divina volontà noi sappiamo già che siamo niente e questo deve accadere perché lo vuole la madonna più ancora di noi ne va del suo onore della sua gloria allora non ci confondiamo proprio con l'idea mamma mia la santità della divina volontà adesso vivo nella reggia e tutto quanto questi meriti come non li merito io no sappiamo che noi siamo nienti è una questione di decreto divino di onore divino e di gloria divina e la madre nostra santissima lo vuole più di noi ne ha diritto e quindi noi nel nostro facendoci mettere nella divina volontà consentiamo a lei e alla divina volontà di compiere lo scopo e non ci viene neanche per l'anticamera del cervello il discorso riguardo ai meriti umani al nostro posto noi siamo niente e quello che vogliamo è il merito e la gloria della divina volontà in cui il nostro niente si è fuso guardiamo che ci vuole grazia per comprendere questo perché se poco poco noi stessimo ancora a leggere queste cose diremmo oh ma tantità grande ma come devo fare non la merito così così invece noi proprio non ci sconquintera per l'anticamera sappiamo che siamo niente diciamo madre nostra vieni ad onorare a glorificare in noi la divina volontà portaci nella tua reggia perché questa è gloria divina volga 24 9 luglio del 28 Gesù ci dice ora tu devi sapere che come tu festeggi la mamma la sua sovranità la mamma festeggia la figlia la neonata di quel figlio che lei amò tanto e che lo tenne per vita e festeggia in te ciò che tu stessa non conosci per ora ma lo conoscerai di poi non sei tu che lei sospira le piccole regine che sono piccole figlie del mio volere per fare loro festa che far loro la festa che lei riceve senza che pensiamo di essere noi le grandi ma è la divina volontà che è la grande il re dell'imperatrice celeste il re il re della divina volontà giungerà certamente dice Gesù volume 33 14 mangia del 35 il re della divina volontà giungerà certamente tu calcoli umanamente e perciò il suo avvento ti sembra difficile forse quando lui dice ma chissà quando non chissà quando c'è invece più la giuramenti umana l'ente supremo invece adopera le proprie misure divine i quali sono tali da far uscire in modo semplicissimo ciò che all'intelletto umano pare impossibile e poi non c'è forse la regina del cielo che col suo dolce impero prega continuamente perché questo regno venga sulla terra e quando mai abbiamo negato alcunché a questa madre celeste il nostro essere è incapace di resistere alla potenza delle sue preghiere poiché la forza che ella possiede è la medesima che anima la nostra volontà è come le rinforzazioni è in virtù di essa che ella impetra impetra con pieno diritto questo santo regno il quale le verrà indubbiamente concesso le verrà indubbiamente concesso e sarà anzi denominato il regno dell'imperatrice celeste che non farà mai la celeste madre regina del popolo suo dei figli che in essa abiteranno ella concederà loro grazie mai udite sorprese sorprese mai conosciute opererà miracoli che scuoteranno cielo e terra metterà a loro disposizione i suoi mari di grazie di santità di potenza e porrà in fuga tutti i loro nemici per tenerlo al sicuro li circonderà con le sue virtù con i suoi dolori e con quelli del suo divin figlio Gesù li farà crescere nel proprio grembo li nasconderà nel suo amore li coprirà con la sua luce mediante le sue stesse mani li alimenterà col cibo della volontà divina quanto lavoro non le procureranno queste anime e qual contento non proverà ella nel trasformarle in coppie fedeli in sé mediante le più tenere cure e le più ossibbe premure materne esse saranno le sue beniamine le sue segretarie le potenti calamite da cui il suo sguardo non si potrà mai scostare già mai e con le quale avrà tutto in comune amore e vita gioie e dolore vivendo del mio volere esse formeranno la sua più dolce compagnia parteciperanno della sua fecondità materna e godranno dell'eredità di ogni suo atto non informeranno la compagnia partecipano della fecondità materna dell'eredità di ogni suo atto dell'eredità dei suoi atto come si sentirà felice e largamente ricompensata questa dolce madre quando vedrà che vi è chi la comprende chi le rassomiglia chi la vezzeggia chi vive come lei della volontà di Dio perché solo nella divina volontà l'uomo trova a sua disposizione tutto ciò che fece Gesù nella sua santissima umanità nella sua passione e solo chi vive nel fiat divino può ricevere in pienezza tutti i beni che vengono dalla maternità della regina del cielo ascoltiamo Gesù nel volume nel volume 36 il 20 aprile del 38 non solo il mio sizio ma tutto ciò che fece e dissi nella mia volontà sta sempre in atto di dire alla mia mamma dolente madre ecco i figli tuoi e la metto al loro fianco per aiuto per guida per farla amare da figlio ed essa in ogni istante si sente mettere dal figlio suo al fianco dei suoi figli ed oh come li ama da mamma e da loro la sua maternità per farmi amare come lei li ama e non solo ma col dare la sua maternità mette il perfetto amore tra le creature affinché si amino tra loro con amore materno che è amore di sacrificio di disinteresse e costante ma chi riceve tutto questo bene chi riceve tutto questo bene chi vive nel nostro figlio dice Gesù sente la maternità della regina lei si può dire mette in bocca ai suoi figli il suo cuore materno affinché succhino e ricevano la maternità del suo amore le sue dolcezze e tutte le sue doti di cui ha arricchito il suo materno cuore un po' collegato con quel suo caro e sangue di Adriano c'è tutto in pratica la sua stessa vita la sua stessa che vi ho detto scusa figlia mia chi vuol trovarmi chi vuole ricevere tutti i nostri beni è la stessa madre mia deve entrare nella nostra volontà e deve rimanervi dentro noi entriamo anche in questo istante continuamente nella tua volontà signore e non vivere ogni nostro atto nella tua volontà divina prendere come vita di ogni nostro atto interno esterno volontario volontario la tua volontà divina quindi avremo come vita nostra anche gli stessi atti di Maria Santissima la Vergine Maria vuole trattare gli uomini del suo amore di madre e farli erede del suo stesso figlio il 28 dicembre del 36 volume 34 Luisa scrive tra l'altro come Adamo peccato aveva tramandato ai suoi discendenti la triste eredità di tutti i mali delle passioni e delle debolezze così anche la celeste regina mediante la propria vita vissuta nella divina volontà può conferire ai propri figli il diritto di ereditare tutti quanti i suoi innumeri beni o la sublime eredità che la sovrana signora vuol far conoscere e donare alle umane creature ella che vive nelle anime loro vuole renderle partecipi della propria maternità divina vuole che esse generino in se stesse Gesù li facciano da mamma lo difendano da qualsiasi offesa e lo amino di quel medesimo amore con cui essa stessa lo ama fratello angelo chi è mia madre che sono i miei fratelli chiunque fa la volontà del padre mio che nei cieli questo è mio fratello sorella madre marina c'è qualcosa da commentare da aggiungere no mi piace bella questa questa confessione questa proclamazione nel vedere diciamo la luce in quella in quella frase del Vangelo no come dire lui stava predicando a un certo punto la madre stava fuori e loro pensavano quasi che Gesù non volesse stare a sentire sua madre oppure che lei dovesse avere dice ma il Signore Gesù tua madre sta fuori e dice no ma chi è mia madre chi sono i miei fratelli sembra quasi che umanamente a volte sembra quasi uno sgarbo alla madre invece altro che sgarbo Gesù dà a sua madre un onore e una gloria e un titolo divino non umano perché in un altro caso per esempio quando quella donna gli grida benedetto il grembo che ti ho portato e lui dice ma non benedetto il grembo benedetto ancora di più chi fa la volontà del padre mio quindi l'amore che si dà a Maria Santissima di aver prestato il suo grembo quello è un decreto divino il suo merito più grande non è quello di ecco essere stata scelta essere stata concepita immacolata aver costituito la maternità naturale di Gesù ma quello di aver fatto la divina volontà in ogni atto e in questa divina volontà si è madre si è padre si è fratello e si è sorella Gesù quante volte lui sta facendo gli atti nella divina volontà Gesù la chiama la mamma mia la mamma mia vuoi che ti chiami madre resta sempre nella divina volontà e quindi chi sta nella divina volontà è fratello è sorella è madre è padre Gesù perché si crea il legame della famiglia divina si partecipa a tutti gli effetti la divina che è la santissima trinità e c'è la comunione completa e quindi questa è la lode più grande che Gesù ha fatto alla madre e chi è mia madre chi fa la volontà di Dio è mia madre mio padre mio fratello quindi ci vuol dire che non soltanto sua madre ma anche noi possiamo raggiungere quel legame di unità di fusione strettissima vivendo nella stessa volontà in cui ha vissuto la madre sua e quindi ogni parola del Vangelo trova il suo compimento la sua gloria alla luce delle verità della divina volontà senza di queste verità il Vangelo nella sua interpretazione al nostro livello di comprensione è zoppo nella Chiesa quando queste verità saranno conosciute e vissute da noi e da tutti i nostri fratelli allora il Vangelo troverà il suo vero compimento quindi si compirà con il testamento finale come dice Gesù definisce questi scritti questi sono l'ultimo testamento d'amore che Dio fa alla creatura quindi l'antico testamento il nuovo testamento è l'ultimo testamento questo non vuol dire che gli scritti di Luisa sono considerati l'ultimo testamento l'ultimo testamento d'amore Gesù lo definisce del creatore alla creatura e quindi pur non essendo rivelazione pubblica c'è l'antico testamento il nuovo testamento e l'ultimo testamento d'amore che mette a compimento tutto cioè è il compimento della rivelazione il compimento dell'ultimo libro dell'apocalisse quindi tutta la rivelazione pubblica si viene compiuta attraverso quest'ultimo testamento che è già contenuto in modo criptico in modo quasi codificato in modo incubato nell'antico e nel nuovo testamento ma tramite questi scritti viene dispiegato viene aperto come un codice viene decodificato e imboccato come un cibo semplicissimo a noi figli senza tutte quelle storie e quelli ingigantimenti della teologia dei vari ragionamenti dell'interpretazione delle scritture arriva nostra madre santissima e ai suoi piccoli bambini scopre apre i sigilli apre i sigilli e fa conoscere tutti i misteri del regno beati ti ringrazio padre perché ai piccoli hai fatto conoscere le verità del mio regno e questi sono questi scritti niente di meno sì di essere ricordati di essere a tutti i giorni che non sono vera c'era delle verità di essere che si capiscono a rischiare togliere il velo come dice i segni quando è nelle scritture precedenti a me colpisce tanto come nel catechismo nella redenzione anche nella santa messa si fa diciamo sempre questo riferimento alla parola mistero il mistero dell'infernazione il mistero pasquale negli scritti di Luisa la parola mistero non esiste è vero è stato compiuto per questo pure il rosario non altro che misteri nel primo atto glorioso è il dispiegamento del mistero che si rende atto compiuto e quindi tutto ciò che è mistero diventa chiaro come la luce del sole senza bisogno di andare all'angelico la gregoriana il dottorato eccetera eccetera ma restando piccoli bambini con tutto il rispetto restando piccoli bambini con le nostre bocche attaccate alla bocca di Gesù come dei piccoli agnellini certo decodificati c'è soltanto nella mia divina volontà la creatura può vedere il vero rapporto tra il creatore e i creati il rapporto tra il redentore e i redenti il rapporto tra il santificatore e i santificandi questo ci dispiega cioè la luce della verità che dispiega tutti i rapporti tra il creatore e la creatura che sono rapporti di vita non di legge né di disposizione e quindi vengono dispiegati nella divina volontà la regina madre del verbo madre delle creature messaggera tra i popoli volume 30 13 marzo del 32 la vergine annunciatrice messaggera conduttrice del regno della divina volontà pensavo tra me si vede Luisa Gesù mi ha inceppata e legata con catene che non c'è pericolo che si possano spezzare sono in realtà la povera prigioniera oh come vorrei la mia mamma celeste in mia compagnia affinché sotto la sua guida potessi vivere come bisogna vivere nella divina volontà ma mentre ciò pensavo il mio dolce Gesù ha ripetuto la sua breve visitina e tutto tenerezza mi ha detto nel vederti chiamare la nostra mamma celeste come tua guida il tuo prigioniero Gesù ha esultato di gioia nell'avere la sua dolce compagnia nel nostro lavoro ho esultato di gioia tu sapere tu devi sapere che lei che fu lei la vera e celeste prigioniera della mia divina volontà quindi conosce tutti i segreti le vie possiede le chiavi del suo regno anzi ogni atto che faceva la regina la regina prigioniera preparava nel suo atto il posto per ricevere gli atti della creatura fatti nella divina volontà gli atti nostri fatti nella divina volontà ogni atto che faceva ma è santissimo preparava nel suo atto il posto per ricevere gli atti che noi facciamo nella divina volontà ed ho come la sovrana celeste sta in aspettativa e sull'attenti per vedere se la creatura opera nel mio fiat per prendere con le sue mani materne questi atti e chiudere negli atti suoi come peni come antidoti che si vuole il regno della divina volontà sulla terra sì che questo regno fu già formato da me e dalla celeste signora già esiste solo che si deve dare le creature per darlo è necessario conoscerlo e siccome la celeste signora è la creatura più santa più grande e che non conobbe altro regno che il solo regno della mia divina volontà occupa il primo posto in essa per diritto la celeste regina sarà l'annunciatrice la messaggera la conduttrice di un regno santo perciò pregala invocala ed essa ti farà da guida da maestra e con amore tutto materno riceverà tutti gli atti tuoi per chiuderli nei suoi e dirgli gli atti della mia figlia sono come gli atti della sua mamma quindi possono stare con i miei per raddoppiare il diritto alle creature di ricevere il regno della divina volontà siccome questo suo regno Dio lo deve dare e la creatura lo deve ricevere ci vogliono gli atti da ambo le parti per ottenere l'intento quindi colei che tiene più ascendenze più potere più impero sul cuore divino è la sovrana del cielo i suoi atti staranno a capo col seguito degli altri atti delle creature cambiati indivini in virtù della mia volontà staranno capo per dare il diritto ad esse per ricevere questo regno e Dio nel vedere questi atti si sentirà mosso a darlo per quell'amore che ebbe nella creazione che il tutto creò per fare che la sua volontà si facesse come in cielo così in terra e che ogni creatura fosse un regno della sua volontà che avesse il suo totale domino perciò sempre avanti nell'operare e vivere nel fiat superi quindi è tutto per risposto a noi e quando lì per tutti gli altri è una divina volontà eh sì bisogna solo vivere tutta la nostra di Tocchiazia con il totale dominio no allora cioè il regno della divina volontà l'orizzonte che dobbiamo avere è la nostra vita cioè il regno della vita a noi il Signore ci ha messo in questo spazio nel tempo e nella nostra vita si compie si deve compiere la totalità del regno non c'è niente che dovremmo vedere di fuori di diverso eccetera le forze del male continueranno a combattere e Gesù lo dice chiaramente saranno pochi quindi non è che il regno della divina volontà vuol dire che i campanellini usciranno dagli alberi e tutti quanti saranno no il mondo al di fuori certo ci saranno dei cambiamenti come in ogni era e tutto quanto ma la pienezza totale del regno della divina volontà si deve vivere nel mio tempo nella mia vita nella mia vita e quindi l'unica cosa importante è impiegare la mia eternità voglio dire eternalizzare ogni atto del mio tempo per renderlo regno eterno della divina volontà come dice Gesù nel volume 16 bisogna sempre nella sfera della divina volontà guardare dentro dobbiamo guardarci dentro perché guardare dentro la divina volontà vuol dire trovare i sei atti immedersi marsi in essi ripetere gli atti se guardiamo fuori cominciamo a parlare intorno al regno circa il regno speculare sul regno ma non saranno atti dentro il regno quindi nella divina volontà noi possiamo soltanto guardare dentro perché se guardiamo fuori come dice Gesù se ci mettiamo sul balcone un giorno o l'altro siccome siamo più abituati alle nostre misere che è la ricchezza che stanno dentro il palazzo un giorno o l'altro se ci affacciamo alla finestra usciremo per non rientrare più e quindi la sfera eterna del regno della divina volontà noi ci dobbiamo stare dentro e guardare sempre nel centro di essa mai guardare fuori e quindi il regno della divina volontà si compie pienamente così come si è compiuto in Luisa così come si è compiuto Gesù così come si è compiuto in Maria Santissima che facevano loro dice ma guarda non hanno neanche inventato il motoroscopio che regno della divina volontà vogliamo avere cioè loro non hanno aspettato niente l'hanno completamente vissuto senza il motoroscopio senza l'energia nucleare senza le cose esterne senza Garabandal e senza Medjugorje voglio dire Maria Santissima ha compiuto pienamente il regno nella divina volontà in lei nel tempio a Nazareth in Egitto e dovunque essa si trovava nel tempo quindi noi ci dobbiamo convincere che il tempo per noi si rende eternità nel momento in cui noi viviamo nella divina volontà quindi non c'è nessun evento che si deve compiere nessuna condizione che deve essere soddisfatta affinché noi possiamo vedere o vivere il regno della divina volontà il regno della divina volontà è adesso o vivo dentro e ci guardo dentro oppure aspetto e guardo fuori però non lo vivo quindi è che noi già sappiamo però ce la dobbiamo ripetere tra di noi e ci dobbiamo convincere che il regno della divina volontà è adesso le cose strabilianti si stanno verificando adesso e se sappiamo che si verificano degli eventi potremmo magari restare delusi anche se potessimo vivere 3000 anni e vedremmo come magari ci saranno altre 4-5 guerre mondiali altre cose così però abbiamo perso il regno della divina volontà perché guardavamo fuori e non dentro e quindi rendiamoci conto che la nostra vita è finita e che ogni nostro atto viene eternalizzato nella divina volontà e quindi prendiamo tutto fuori di essa rimaniamo con un nanosecondo in mano che è già finito e lo perdiamo quindi se vogliamo stare nell'eternità se vogliamo stare con Dio e fare tutto quello che fa e aggrappare tutto il tempo e tutta l'eternità dobbiamo solo guardare dentro e rimanerci dentro senza neanche pensare a quando Luisa verrà beatificata oh la diamo le mani Gesù stesso ha detto il regno di Dio è dentro di voi è dentro di voi ma il regno qual è il regno più approva il miracolo lampante che ci stanno 4-5-6-7-8 anime di varie estrazioni di varie culture e ce ne sta una e due con la mamma nell'etere in un sottoscala che si sentono gli uccellini da fuori voglio dire altro che miracolo poi magari lo vedremo in un futuro ma il miracolo si sta compiendo adesso ed ora se noi vedessimo se noi sentissimo e capissimo quello che che vede e capisce Gesù che sta alle vostre spalle e sta qui in silenzio e noi stiamo qui a parlare e lui sta lì in silenzio che guarda e capisce e vede tutto e vuole operare in noi se capissimo questo miracolo ma come dire povera casa di Carla schizzi di cervello dappertutto scoppieremmo allora il miracolo si verifica adesso tant'è vero che c'è un Dio vivo e vero in corpo sangue anima divinità che sta guidando con figli di luce tutti i nostri atti e tutti i nostri pensieri meno male che non lo capiamo a fondo altrimenti scoppieremo scoppieremo e poi i muri li devono imbiancare di nuovo perché tutti gli schizzi del cervello di Vilma vanno lì e li sporcano e poi che schifo tutto il sangue basta invece no grazie serviva puramente 48 l'amore della sovrana regina è diffuso in tutto il creato perché il Fiat nel suo slancio infinito lo diffondeva ovunque scrive Luisa in volume 24 il 22 aprile del 28 pregavo la sovrana regina che venisse in mio aiuto e mi prestasse il suo amore per poter amare col suo amore di madre il mio dolce Gesù e Gesù ha soggiunto figlia mia l'amore della sovrana celeste è diffuso in tutto il creato perché quel Fiat che solo col pronunziarsi aveva slanciato in tutto l'universo tanta varietà delle nostre opere e datele in la vita abitava in lei ed essa il suo amore tutti gli atti suoi emetteva nel Fiat divino il quale non sapendo fare cose piccole ma grandi e senza limiti nel suo slancio infinito diffondeva l'amore a tutti gli atti della mamma celeste nel cielo nelle stelle nel sole nel vento nel mare ovunque ed in ogni cosa il suo amore è diffuso ovunque i suoi atti li trovi dappertutto perché il mio Fiat ovunque li diffondeva ed animava tutto con l'amore e atti di lei né io sarei stato contento né mi sentirei amato ed onorato se non trovassi in tutte le cose fin sotto la terra l'amore e la gloria che mi dava la mamma mia sarebbe stato un amore spezzato ed una gloria divisa se non la trovassi in tutta la creazione molto più che in tutte le cose l'avevo amata era giusto che in tutto trovarsi trovassi il suo amore diffuso e sempre in atto d'amarmi e di glorificarmi ne avrebbe potuto farmi breccia un amore spezzato che non mi corresse ovunque appresso e quindi non avrebbe potuto tirarmi dal cielo in terra nella stretta prigione del suo seno materno le sue catene d'amore furono tante per quante cose creai in modo che io scesi dal cielo come un re tutto inanellato ed accerchiato dalle catene d'amore della regina del cielo e se il suo amore giunse a tanto lo deve al mio Fiat divino che regnando in lei da sovrano rapiva il suo amore nel mio volere e lo allargava ovunque e gli atti di lei ricevevano tutte le tinte degli atti divini perciò se vuoi l'amore della mamma regina fate il mio Fiat e ti domini diffondi il tuo amore e tutta te stessa in esso affinché il mio Fiat rapendo il tuo piccolo amore e tutto ciò che tu fai lo allarghi e portandolo ovunque dove esso si trova che è dappertutto trovi unito all'amore della mamma mia il tuo amore e tu mi darai il contento che la piccola figlia del mio volere non mi dia un amore spezzato e diviso ma amore in tutte le cose e dappertutto nascondiamo i nostri atti negli atti della celeste mamma che supplisce per noi mentre continuavo il mio giro in tutto ciò che è stato fatto nel volere supremo volume 20 2 novembre sono giunta a tutto ciò che aveva fatto la mia mamma celeste in esso nel volere supremo e le dicevo sovrana regina vengo a nascondere il mio piccolo amore nel mare grande del tuo amore dove lo facciamo in cena allora cominciamo da capo sovrana regina vengo a nascondere il mio piccolo amore nel mare grande del tuo amore la mia adorazione verso Dio e il mezzo cielo della tua i miei ringraziamenti li nascondo nel mare dei cuori le mie subite i miei sospiri le mie lacrime le nascondo nel mare delle tue affinché il mio e il tuo mare d'amore sia uno solo la mia relazione e la tua sia una sola i miei ringraziamenti prendono la larghezza dei tuoi stessi confini le mie suppliche le lacrime e le tene diventino sul mare con il tuo affinché anch'io abbia il mio amore di adorazione eccetera affinché come la tua sovrana altezza gli inventrò con questo il sospirato e redentore così anch'io mi presento con tutti questi mari in ansia alla maestà divina per chiederle per pregarlo per scongiurarlo che il regno del figlio sprema mamma la vicina mia devo seguirmi nella stessa tua via dei stessi mari i tuoi d'amore e di grazie e per vincerlo di far ricevere il suo regno sulla terra come lo vincesti tu a far scendere il verbo eterno non vuoi tu aiutare la tua piccola figlia a darmi i mari tuoi per farmi ottenere che presto venga il regno del fiat supremo sulla terra ora mentre ciò facevo dicevo pensavo tra me la mia mamma celeste non si occupò né ebbe tanto interesse del regno del fiat supremo che subito che subito venisse a venire sulla terra ebbe interesse del sospirato redentore che lo ottene e del fiat divino che era più necessario e che doveva mettere il perfetto ordine tra creatore e creatura non si occupò mentre aspettava lei come regina madre di rappacificare la volontà umana e la divina affinché regnasse col suo pieno trionfo in questo momento il mio sempre amabile Gesù mi ha detto tutto bontà figlia mia la missione della mia inseparabile mamma era per il sospirato redentore e la compì perfettamente ma tu devi sapere che tutto ciò che feci tanto io quanto essa la sostanza la fonte la causa primaria era il regno della mia volontà ma siccome per venire questo era necessaria la redenzione mentre nei nostri atti al di dentro mentre nei nostri atti al di dentro c'era il regno del fiat ecco quel regno dal di dentro in tutti gli atti in tutti gli atti loro di di Maria del redentore c'era appunto c'era il regno del fiat perciò che questa è l'importanza degli atti è un regno interiore alti fuori all'esterno dei nostri atti eravamo tutti intenti ed occupati per il regno della redenzione il compito suo era il regno della redenzione per il suo vivere nel fiat divino la gloria della vergine è insuperabile in virtù di esso a centro in sé tutte le creature concependo per il suo vivere nel fiat divino la gloria della vergine è insuperabile in virtù di esso a centro in sé tutte le creature concependole nel suo materno cuore e dirocando il suo figlio Gesù in ciascuna creatura nel suo cuore concepito il 15 agosto del 26 volume 24 Luisa scrive stavo pensando ed accompagnando la sovrana regina quando fossunta in cielo e il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno come inneggiando la sua mamma celeste mi ha detto figlia mia la gloria della mamma del cielo è insuperabile nessun altro delle regioni celesti possiede mari di grazie di luce mari di bellezza e di santità mari di potenza di scienza ed amore e molto più questi mari li possiede nel mare interminabile del suo creatore gli altri abitatori della patria celeste la beata al più possiedono chi piccoli rivoli chi le goccioline chi le fontanine solo lei è l'unica perché fu la sola che fece vita fece vita nel fiat divino mai ebbe luogo in lei l'umano volere la sua vita fu tutta la volontà divina ed in virtù di essa accentrò in sé tutte le creature concependone nel suo materno cuore e bilocando tante volte il suo figlio Gesù per darlo a ciascuna creatura che aveva concepito nel suo vergine cuore quindi non ha aspettato la croce per essere affidati noi come sui figli lei lo sapeva già lei si evidentemente lei si sapeva già il tutto che aveva già già ci sentiva che aveva scoperto perciò la sua maternità è stesa a tutti tutti possono darsi il vanto di dire la madre di Gesù è la madre mia e questa madre si dolce amabile amante ci dà ciascuno il suo figlio di letto come peggio del suo amore materno solo la mia volontà poteva darle questa virtù di concepire tutte le creature come figli suoi e di moltiplicare tante volte il suo figlio Gesù per quanti figli teneva ecco perché poi anche il padre dice che non ce l'assesseremo altri Gesù ora Gesù continua in cielo all'altezza della madre sovrana possedendo i suoi mari non fa altro che innalzare onde altissime di luce di santità d'amore e le scariche sul trono dell'ente supremo il quale per non farsi vincere dall'amore di lei da sottrimare della Vergine Regina perché tiene il suo più esteso più profondo più profondo forma le onde sue più alte e le versa su di lei e lei prepara le altre e Dio le altre in modo che tutto l'entino resta allegrato da queste onde di luce di bellezza d'amore e simili tanto che tutti prendono parte e godono e vedendo che loro cioè i beati non possono formare queste onde perché non possedono mari comprendono che la loro madre e regina se tutto possiede è perché formò la sua vita e santità nella volontà di l'unione sicché i santi nella Vergine conoscono che significa santità del volere divino della creatura e perciò sospirano altre creature che portino questi mari nella patria celeste per vedere formare altre onde incantevoli e di loro godimento maggiore ed ecco anche perché chiedono che sulla terra a Dio che faccia fare atti nella divina onda sulla terra le creature che sono sulla terra perché è una beatitudine in più che hanno tutti i santi godono di più un atto di volontà divina è un atto di Dio quindi una nuova identica per loro la terra non la conosce ancora la santità nella mia volontà e perciò amo tanto di farla conoscere ma il cielo è ben nota perché c'è la regina sovrana che solo a vederla si fa rivelatrice della santità del mio fiat sicché lei in virtù di esso fu portento in terra di grazie per sé e per tutta l'umana famiglia ed è portento di gloria nella patria celeste bene su un'altra creatura si può dire simile a lei non so se con questo concludiamo volevo soltanto dire che questo passo è quasi gemello con un altro passo di cui adesso non mi ricordo il volume questo è il passo dove Gesù spiega la gloria di Maria Santissima in cielo e poi c'è un altro passo dove si parla della gloria di Adamo in cielo e quindi nella gloria di Adamo in cielo tutti gli angeli i santi capiscono la nobiltà della natura umana come è stato creato l'uomo a quale santità doveva essere elevato e vedono in lui anche una grande santità perché ci sono tutti gli atti di Adamo innocente quindi vedono capiscono che cosa vuol dire santità nel vivere nel divinvolere guardano Maria e vedono fin dove può arrivare vedono questa santità compiuta non spezzata ma compiuta dall'inizio alla fine e quindi come per dire i santi e gli angeli in cielo sono come una partita di test guardano Adamo guardano Maria guardano dove Dio voleva arrivare e si sentono estasiati poi guardano Maria e si sentono ancora più estasiati perché vedono quella santità compiuta e quindi la gloria di Adamo e di Maria Santissima in cielo sono uno spettacolo così strabiliante che quando lo vedremo ci diamo con l'appuntamento quel giorno e festeggieremo insieme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti